E' stato pubblicato l'avviso per l'accesso alle risorse in favore di persone adulte con disabilità grave, prive di sostegno familiare ai sensi della legge dopo di noi. Lo rende noto l'assessore alle politiche sociale Francesco Cristiano Bignotti. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 27 luglio, esclusivamente mediante consegno a mano, allo sportello unificato del settore politiche per il benessere della persona in Viale Aldomoro 30, che è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed il martedì ed il mercoreldì anche dalle ore 15 e 30 alle ore 17 e 30. Le tipologie di sostegno previste sono relative ai percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita del nucleo familiare di origine oppure per la destituzionalizzazione anche attraverso l'intervento di strutture alloggiative autorizzate, a soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare e a interventi di supporto alla domiciliarità. Il testo completo dell'avviso, contenente tutte le informazioni e la relativa modulistica, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.l'aquila.gov.it nella pagina concorsi, gare, avvisi dell'area amministrazione.